Buongiorno da Irenia, Morgana e da Le Lolline, e da Le Lolline, e dagli unicornini, il nostro unicorno luminoso, ciao unicorno luminoso, Morgana l'ha chiamato Luce, e lei Pixi, va bene, ci stiamo riempiendo la casa di unicorni, grazie a Corinne Antineo che lei ha questa passione per gli unicorni, e gliel'ha toccata la mia Morgana, grazie Corinne, un bacio, allora, buongiorno, ciao, ciao, come sei sprintosa, non per questo mi chiamo sprinta, giusto, va bene, cosa, aspetta prendo io, con le tue un belle unghie rosa, ah si, ho fatto le unghie nuove, le ho fatte io, gliterate, si, no, vabbè, non sono perfette, però, vabbè, cosa intravedo qui, ma è un numero enorme, l'ho pesata, 193, allora, questa qua pesa 193 grammi, è una confetti pop serie 3, wave 2, giusto, e l'ho pesata, 193, è pesantissima, o c'è dentro un elefante, o non lo so cosa ci può essere dentro, le ho anche torciate, ma, pensi una, con una come mea glitterata? Non lo so, me lo auguro, ma, ma, cosa, cosa? Ha la mia stessa pettinatura, chi? Lei, eh, eh, diciamo che lei è la tua cuginetta bagnina, lei fa la bagnina, buongiorno, cioè, no, fa la bagnina, sì, buongiorno, buongiorno, ah, ecco, ciao, ma tu stavi dormendo? Sì, più o meno, mi stavo dormendo, sì, sì, ah, perché c'è la luce dell'unicorno, c'è la luce dell'unicorno che mi mette un po' di sonella, ok, andiamo avanti, vabbè, andiamo avanti con questo spacchettamento, unboxing, come vogliamo chiamarlo, oh mamma, arriva con la... allora, queste qua le ho prese in preordine da Toy Shop, The Toy Shop, sì, che è il sito, quello inglese, dove ogni tanto io faccio i miei acquisti. Sto arrivando, scettatemi! Certo, non poteva mancare, è arrivata la forbici, è arrivata anche lei, anzi, le forbici ed è arrivata anche... Le forbici, eh? Le forbici, ed è arrivata anche... FESH! Ah, ok, sì, guarda che avete gli stessi colori, l'avevamo già detto, forse. Ma io sono più bella. Ma anche lei, carina, non mi dispiacerebbe trovarla, anche perché non ce l'abbiamo neanche ancora. Sì, aspetta, non mi corro! Ebbè... Aspetta, silenzio tutti, silenzio, eh! Mi attormento. Vabbè, vai. Ok. Andiamo, va bene. Boom. Possiamo partire con questa... Allora, qua facciamo vedere, lei non la troveremo assolutamente mai. La gogo girl, gogo girl. No, non ce la faccio. No, non è gogo girl! E la gogo... Queen. Senti, con queste unghie nuove non ce la faccio, mi devo aiutare. Non raccoggiati che siamo sgranate, Morgana. E non mi accorgo. Allora, guarda. Vediamo. Andiamo diretti subito No, volevo andare diretti subito Ora va o la spaccia Come è? Vai, giro io Vai No, ne manca una Che cos'è che c'è di così pesante? No Voi avete capito Lei mi ha detto Io non ho capito niente Voi avete capito qualcosa? Vabbè Comunque è Pumpkin Iron Ed è Cos'è l'Atletic Club? Atletic Club Uno, due Vabbè Arrivo io Eh ma tu arrivi da lì Non vorrei che stai a te un'altra volta Eh no, perché io sono napping Lei è napping? O la Touchdown è napping? Guarda che la Touchdown mi sembra che è napping Sinceramente non mi ricordo cosa fa parte di quel Fleb Eh Ho un Intanto si è aperta bene La bowl è rosa Qua abbiamo I nostri stickers Possiamo trovare questa Questa è tutta roba che abbiamo già Sarà Preparatevi perché 99 su 100 sarà una doppia Posso piangere che non ce ne va bene una Senti Ecco Ok fai vedere Togliamola nel lazzo Ok ti metto Fammi tagliare questa Vai Attacchiamo qua Incroce le dita Oh Oh non si può attaccare lì Oh no Vai Non vedo Dai Vai Morgana Smetti di fare il video Dai Dove l'hai messa la cicliste? Dove è? Ma è lì davanti Ah È lì davanti a te che ti guarda Eh sì proprio Dai perché siamo così sfortunate Io so E' quella è stata più pesante questa un'altra volta Ma la magno È mia No Provo a scambiarla Se non riesco a scambiarla E' mia Fatemi toccare Fatemi tastare Fatemi Io non capisco Si è spento ancora l'uniforme Ma non si capisce Chi è? Capito? Hai capito chi è? Non lo so Non mi ricordo di chi è quel vivero ancora Certo Certo Dici mamma sei un po' rimba Eh lo so Mordi la mamma È un po' così Devi portare pazienza Ragazze Tre Due Unicorni Non lo faccio apposta Eh sì infatti Becchi gli unicorni Fa niente Tre Due Uno Hop Niente Siamo a bordo tavolo Stava quasi per cadere tutto dal tavolo Allora Togliamo Massimo Stava aspirato a polvere poi Allora togliamo qua Checklist Istruzioni Che tanto È la carta più inutile Guardate quanti ce ne sono ancora dentro Ne ho messo dentro io Ne ho messo dentro io Quelli Ah scusi Eh No No perché sai Con cosa parti Io partirei col biber Eh stai citando No Vai intanto Oh mio Dio Oh my god L'abbiamo già trovato questo biberon Oh my god Chi è che c'era quel biberon Beh ma non può essere la gogo Lei La gogo La gogo E la sua Sai cosa Oh non ne abbiamo trovata una dello sleepover club Chi è Questo No Oh mio Dio ho capito Che carino Morghi Non ce l'abbiamo Guarda Guarda che siamo in pandante Sembra più chiaro Ma vi assicuro che ho uguale le mie unghie Aspetta Aspetta Oh my god Guarda Non è troppo chiaro Oh Siamo sfocatissime Fa niente Ok Portate pazienza Che carino il gattino che si è perso sul latte Cioè non è che si è perso sul latte Ah qua c'è il ciuccio Ha perso subito il ciuccio perché non vuole perdere C'è il ciuccio? Oh C'è il ciuccio Io spero Non dico niente Però io spero Che sia Ah Ma 99 su 100 Organa Tu sai E voi ragazze lo sapete che noi non siamo Fortunati Ok avete già capito Che carino La B Wow No vabbè Le scarpe Sì Fai vedere come siano Le scarpe sono degli stivaletti Delle scarpe della ginnastica Oh mamma mia che belle Che ti aveva con le scarpe qua La T-Cerpet Lollina Dai 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 Cos'è che manca? Il pezzo forte Ah già ecco perché era pesante Perché c'era dentro questo Il pezzo forte Il capellon Guarda è me Te lo metti tu Guarda Quando faremo Sì Quando per i 15.000 faremo la prossima diretta Te la metti in testa Guarda ti sapevo benissimo Sì Al bacio Ricordatelo Ecco guarda La La boss queen si è sentita male Come la diretta Oh mamma mia Vediamo Dimmi che può cambiare Ah non cambia Perché com'è che cambia? Eh lei gli si schiariscono i capelli Allora facciamo così Eh vabbè non fa niente Però non so se cambia col caldo o col freddo Non fa niente Se no Allora vedete Ah aspetta che facciamo vedere Allora c'è la luce Allora Noi praticamente abbiamo trovato Short stop Che può o piangere o cambiare colore E lei è Una Comune Morgana Cambia colore Ma stai scherzando? No Perché? Vabbè Ok E va nel caldo o nel freddo Allora facciamo così Ci fermiamo un attimo E la mettiamo nel freezer E arriviamo subito Allora L'abbiamo buttata in freezer L'abbiamo buttata dentro in un vulcano Nel forno Ne Dove l'abbiamo buttata ancora? Sotto l'acqua bollente De 3000 gradi L'abbiamo fatto E niente Abbiamo scoperto che non cambia colore E quindi Ti conviene far così E qui Siamo scurissime Morgana poi tu stai facendo ancora più buio Vabbè piangi Sì certo Anche se non cambia colore Ma sinceramente va bene Allora 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 Qua ci sono Le scarponcine Che sono troppo carine Sono delle Sono pratiche Scarponcine Con le calze lunghe E sono anche giuste Destra e sinistra Strano ma vero In questa boll Non c'è niente di rovinato Sto leggendo di quelle cose Sul gruppo delle lol Bambole Magari anche rare Che escono con i vestiti Hanno trovato Che 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 avevano trovato Con i vestiti di Punk boy Chi era la beatnik forse La beatnik Con i vestiti Di punk boy Che per chi non lo sapesse È questa Con i vestiti Di punk boy Questa Che lei è un'ultra rara Con i vestiti Di punk Ah punk boy Ah eccolo Non lo vedevo Vabbè ma noi quello Ce lo possiamo scordare Addirittura ho visto Una unicorn Ah sì Uscire con quattro scarpe Senza il vestito E una scarpa O due scarpe Le hanno prese dentro Praticamente Nella Nella chiusura Del sacchetto No No guarda Stanno Oh my god Vedi fammela Mettigli anche il ciucciotto Ti prego È sfocata Ma dai Perché ci svolgiamo Sempre Colpa tua Ok Vai 3 2 1 È bellissima Dai Ma quanto è carina Beh la musicetta Magari trovi Ok Mettiamo la La luce No vabbè Mi piace tantissimo Bella 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 Cosa dite ragazze Lolline Vi piace la nuova No fa schifo C'è Fresh Mamma mia Ha il cappello Io non ce l'ho Ma non so neanche se ti va Te hai il cappellino Provalo dai Guarda quanto sei carina Grazie Ogni tanto magari te lo presta Sai cosa mi sembri? Sai quelle che mettono i caschetti Per andare a lavorare Ma perché? Perché ti sembri quella? Mettila così Che magari sei un po' più trendina Yeah 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 Guarda 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 come sei molto Biondo così Buongenna Buongenna Ah ciao Ti posso vestire questo? Baby Ti ha scritto anche Ci ha scritto Pissù Eh no Aspetta Così vai Girati Girati Mi piaccio Sei molto biondo Vabbè Ditemi magari nei commenti Quale cappellino preferite Su Fresh Se è quello di MC Swog O se è quello di Short Stop Mi piaccio Ragazzi Stai bene Va bene Il mio cappello Grazie No Allora Guarda che stiamo già facendo un disastro Comunque È molto 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 carina Bellissima Sì Ci piace tantissimo Non so perché c'è sul costumino Però vabbè Ci piace Ok E salutiamo perché è già un video di 14 minuti Quindi noi vi salutiamo Vi mandiamo un bacione grosso Ci vediamo al prossimo video Mettete un like E vi ricordo che al raggiungimento dei 15.000 iscritti Facciamo una live Faremo un'altra live E apriremo magari insieme Una LOL Surprise Con Fetty Pop Wave 2 Quindi noi vi salutiamo Al prossimo video Ciao Ciao